Ciao a tutti ragazzi sono Johnny, benvenuti in questo prossimo video, oggi siamo su FNAF su Gmod per giocare a Gmod con la mia amica Noemi Allora aspettiamo che ci entra Noemi, oh cacchio, già è morto quello andando addosso a Cica Stanno succedendo bordelli su Gmod, Noemi, tu sei entrata? Foxy sta correndo Ragazzi è Foxy che corre, ho sentito anche i suoi passi, cavolo ragazzi perché hanno aperto la porta? Ma chi ora sono? Noemi ecco ti vedo, 63 pro, ok Noemi entra su Gmod dai, ci sei? Mi apri? Sto fuori? Clicca su door Noemi, no da quest'altro lato, ecco, ah c'è Bonnie, c'è Bonnie, c'è Bonnie Noemi, c'era Bonnie cacchio Noemi dobbiamo fare attenzione agli animatronici, che sta fuori, oh mi sono baggato Vabbè non ci andare vicino, ti ammazza Noemi Pizza? Pizza? Che cazzo? Ah perché mi avete chiuso fuori? Perché succedono bordelli su Gmod oggi raga? Perché c'ho una pizza? Ma non mi vai ad avere una pizza in mano, questa è una cosa molto schifo Ah! What the fuck? Noemi sono morto con quel cacchio di Bonnie Fidati, fa schifo il Jumpscare, ok? Noemi! No, non andiamo fuori, c'è Bonnie, però sta indietro, noi dobbiamo andare avanti, ok? Perillustriamo la pizzeria che non l'abbiamo mai perillustrata in vita nostra Ok Ma c'è Freddy, c'è Cica Cacchio Ci sono loro? Noemi, non andare dove sto andando io Noemi, meno male che non ci vedono Cacchio Cacchio Se no No però, c'è Foxy Noemi, non andare da Foxy Anzi, vado io per sacrificarmi Non mi ammazza Ok Allora, non è buono Noemi, segui Allora, io sto nel bagno, ok? Ah, ok Cacchio Cacchio, Noemi Ma che ora sono? Voglio sapere Noemi Ma che ora sono? Sono entrato nel parà C'è Cica che è ritornata al suo posto Anche Freddy, ma c'è Foxy si è mosso Noemi, se corre, questo ci ammazza Noemi, torniamo nella stanza Noemi, torniamo nella stanza C'è Foxy Stanno succedendo bordelli Chiudi Ecco, bravo, l'ha fatto lui Mi sono beccato un jumpscare della gloria Sta correndo Foxy, raga Noemi, sei morta? Ma a me mi ha ammazzato Bonnie Sta vicino Sta vicino Sta vicino Meno male che ho chiuso la porta Scemo È morto È fregato Noemi, ma che ore sono? Ma che è sto rumore? Tipo con tabattiti, non lo so Apriamo, dai, andiamo Stanno succedendo bordelli a non capire Ma c'è Golden Freddy Penso di no Penso, spero di no Aspetta Ma se si muovono ragazzi È la fine È la fine Noi mi perlustriamo la cucina Che nel primo non si può fare Come non ci possiamo entrare Sei morta? Chi ti ha ammazzato? Chi ti ha ammazzato? Cica Ti ha ammazzato? Ah, ok Ma come ha fatto ad ammazzarti? Se tipo Se tipo Non c'era mossa? No, no Allora Foxy ci sta nella tenda Benissimo Ok Noemi c'è una stanza qui Entra in una porta Ma qui è tipo una stanza dell'ufficio Noemi Entra in una porta Dadda Dove sto io? Anzi prendo una torcia Va raga Per sicurezza Allora Succedono bordelli su Gimodo E mi fanno parla Cica si è mossa Cica si è mossa Stai tra i tavoli Noemi Cica si è mossa Cacchio raga Aspettate raga Non ci andiamo vicino Se non ci ammazzano Io adesso ho Jamsker Uè Quanto è brutta No Ma lo stesso Jamsker Allora Noemi Adesso comportiamoci Da bravi ragazzi Come nel primo Vieni dentro Aspetta che te l'apro Ma non lo so Come sei morta Chiudiamo tutto C'è il ventilatore Che mi sto baggando dentro Ok vediamo le telecamere Controlliamo Allora Bonni se n'è andato Bonni sta tra i tavoli Gica dove sta? Di solito sta nella camera 7 Dov'è Noemi? Tu controlla fuori Allora Noemi Tu controlla Vicino alle porte Aprile se non c'è nessuno E fai la luce E io controllo le telecamere Diamoci i mestieri Noemi Diamoci i mestieri C'è Foxy Meno male Sta correndo raga Comunque Noemi Allora Tu controlla le porte Bravissima Io controllo le telecamere Freddy se n'è andato Cacchio Un problema questo Che detto? Bonnie se n'è andato Bonnie se n'è andato Noemi c'è chica Chiudi Chiudi Brava Chiudi Perché non chiudi? Se ci compare nell'ufficio questa Ci ammazza Cacchio Guardala qua Guardala Noemi Ma perché è aperto Basta Questo lo chiudiamo fuori Si è fatto pure ammazzare Ma che cretino Ok ragazzi Abbiamo stabilito Io e Noemi Dobbiamo giocare Nascondino Contro gli animatroni Però c'è Freddy Che ci ha rubato il posto Basta Mi metto qua Noemi si è andata? Non so che fare Spai mi avvicina Vediamo Quanto è brutto Quanto è brutto Quanto è brutto Da cagare Freddy Noemi Noemi Qui sta Noemi Chiudo la porta Tu dove stai? Qui sta Eccoti Noemi Ma che cacchio succede? Dove stanno Dove stanno tutti? Se ne sono andati dal palco Cacchio raga Oh Oh Foxy Alla tenda Vieni nella stanza Nel guardiano Nel guardiano Dal guardiano Dal guardiano Aspetta Che sto qua Dal guardiano Noemi Dal guardiano Vieni Dove sto io Dal guardiano Noemi E' la stanza del guardiano Perché se no Ci ammazza Foxy Quando corre Cacchio ragazzi I dettagli sono simili E' brava Brava Noemi Controlliamo se c'è Nella luce Va bene Ragazzi ma Siamo su Gmod E stanno succedendo Bordelli Foxy Meno male L'abbiamo chiuso in faccia No aspettate Ragazzi Scrive Alla scelta di questo qua Chi? C'è un guadalino C'è un guadalino C'è un guadalino E' un guadalino E' infatti Ragazzi Scusa Sta baggando Secondo me E' morto pure Ragazzi ma chi c'è qua fuori? Perché non posso chiudere la porta? Ok Perché? Noi mi ti metto un po' più vicino Allora dici una cosa Quello che hai detto prima Che se no non ti hanno sentito Quale ragazzo sta baggando? Quale ragazzo sta baggando? Questo qua che sta vicino a me? Ah ok Allora Stanno succedendo bordelli? Chi è che dice pizza? Pizza 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 Ma che sta facendo Questo qui attaccato al nulla? Pizza Che ne so Vabbè Basta me vado a nascondere Pizza Pizza Me vado a nascondere Pizza 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 Noi mi sto sul palco Sto a fai un trucco Pizza 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 Se prendo la pizza Faccio il verso pizza 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 Vabbè Ok allora dove sta Freddy Dove sta Freddy Stava nei bagni Ma dove sta Aspetta forse so io dove sta Dove è Foxy Ah ok è entrato Freddy secondo me sta qui Non c'è qui Cacchio ragazzi allora siamo in una difficoltà seria Non troviamo Freddy Oh diamine Noemi Dove è Freddy Eccolo sta sul parco Sta sul parco Oh cavolo Ragazzi Pizza 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 La cosa che amo di questo gioco è questo Pizza Ragazzi ma una cosa che non vi abbiamo detto E che su Gmod abbiamo le stesse skin di Roblox Oh buona la porta Cacchio ragazzi è quello entra Quello entra ragazzi Quello entra Ma è troppo alto Fatti Gli si sbattono le orecchie Aspetta Sono un glitch Guarda Cacchio infatti Non ce l'ho Dai perché non ce l'ho Adesso ci tocca andare di là Eh vabbè Va bene ragazzi Per oggi Finiamo qua Ci vediamo in un prossimo video di Gmod Ciao ragazzi